che ha sempre mantenuto anche un profilo non solo umile perché per forza doveva essere così ma anche guardando e stringendo la mano e abbracciando le persone che lavorano sotto per Milano quindi anche le botteghe storiche, anche le persone che combattono la fatica quotidiana e che comunque promuovono del loro piccolo Milano e un ringraziamento va e sono veramente contento, poi parlerà Cesare, il mio editore sono veramente contento che a distribuire il libro ci sia Mauro, la famiglia Burlini, Alessandro, Natonella e Mauro perché loro hanno fatto parte della storia di libreria Mauro di Milano che è una bottega storica, sono il distributore ufficiale del libro per tutta Milano e per la Lombardia ed è un punto di orgoglio per noi dire a distribuirlo c'è una bottega storica quindi c'è una persona che lavora per Milano e che fa tanto per Milano poi desidero ringraziare, facciamo la parola a loro, la mia famiglia Erika, la mia figlia, la mia figlia Vittoria per tutto il supporto per come sei, per come è nato questo libro anche la difficoltà di venire qui io voglio ringraziare, sono veramente contento di dire grazie anche ai miei due amici che sono Roberto Foglia e Daniela Mortale perché sono venuti qua oggi e non sanno quanto per me sia importante questo e comunque grazie per la mia figlia e la mia voglia di stare insieme grazie